Siamo con Alessandro che è italiano, non a Barcellona, a Badalona, tecnicamente è il problema mio vicino, si è trasferito con i genitori ed è un ragazzo che è toccato altissimo, immaginate come se i genitori si trasferiscono a Barcellona, da quanto stai qua? Sono in Spagna, due anni, Barcellona a Badalona, sette mesi. Quindi mettiamo i puscieti ceramici sulla scheda stessa. Vincent, lui mi ha scoperto attraverso te, quindi ti taggo qua, se vuoi saluta, vuoi dire la camera. Ciao ciao Vincent, grande fan. Grazie a tutti. Grazie a tutti.